Ciao e bentornato, siamo qua a Limpiedana, a Tavepisa, alla disciplina della Fossa Olimpica e sono stato un po' assente qualche mese ma perché volevo riflettere sui nuovi video contenuti per darti nuovi spunti. In questi video contenuti voglio parlarti delle frasi classiche che si sentono dire e che magari anche te hai sentito dirti spesso mentre pratichi la disciplina della Fossa Olimpica che ho racchiuso in quello che chiamo il vocabolario del tiratore di Fossa Olimpica. Andiamo a vedere il primo vocabolo del tiratore di Fossa Olimpica che dice all'uscita del piattello stai fermo. Andiamo a fare un po' di pratica. Sono partito prima? Devo stare fermo? Di più? Ok. Ora? Meglio? Sono partito col piattello? Ancora più fermo? Vabbè. Ah! Meglio no? No? Ancora più fermo? Ok. Eh! Oh! Ora sono stato fermo? Ero fermissimo ora? No? No? Ce l'ho fatta. Fermissimo. No? Vabbè. Ora ti faccio vedere come sto fermo. Come non mi hai mai visto. Ah! Ciao! 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 ce l'ho fatta stavo fermissimo il cartello? il cartello è cascato ma non devo stare fermo? questo per dirti che molti tiratori si trovano a sentirci dire di stare fermo ma non ci riescono partono prima partono col piattello cercano di stare fermo ma non ci riescono mai se ti è capitato anche a te questa cosa fammelo sapere nei commenti e fammi sapere se sei riuscito finalmente a stare fermo e a sentirti in controllo all'uscita del piattello ci vediamo nei prossimi video e alla prossima stai fermo grazie a tutti